Perché si traveste? Perché il travestitismo è rivoluzionario. Ho appena saputo che in Italia c'è un tizio Angelo che sta organizzando la prima manifestazione di omosessuali. Ma tu vieni! Non riesco, ho troppe cose da fare qui. It's historic day! 5 aprile 1972, proggia rivoluzionaria a Sanremo sconfigono i medici borghesi, i sessuologi e gli psico-nazisti che li vogliono tutti in manicomio! Oh, Cassi, che peggio! Ma lo psichiatra ha parlato di sindrome da schizofrenia paranoide. Parole! Eh sì, parole. Cosa rivendica? La fine di tutte le persecuzioni, compresa la sua. E ritornare al tempo che c'eri tu.